Buonasera, bentrovati al Tg per sordi. Tre treni sono stati cancellati e altri convogli hanno accusato ritardi questa mattina sulla linea ferroviaria Empoli-Siena a causa di un'auto rimasta abbandonata sui binari a un attraversamento nei pressi della stazione di Granaiolo vicino a Castelfiorentino in provincia di Firenze. Secondo quanto appreso l'auto sarebbe stata lasciata sul posto da alcune persone in fuga dopo aver commesso un reato, forse un furto, su cui sono in corso indagini da parte del commissariato di Empoli. Nel veicolo urtato questa mattina da un regionale in transito non c'erano persone e non si segnalano casi di feriti. Trenitalia ha attivato un servizio di autobus sostitutivi lungo la tratta al fine di ridurre i disagi. Il Dipartimento per la Prevenzione dell'ASL Toscana Centro ha programmato uno screening per il SARS-CoV-2, indicando la necessità di effettuare i test sierologici ai migranti ospitati in questi ultimi tempi a Vicofaro. Lo rende noto la diocesi di Pistoia spiegando che i test sono previsti per lunedì 27 e martedì 28 aprile. Tale profilassi si rende necessaria, si spiega, proprio per velocizzare e rendere completamente sicuri il trasferimento e l'accoglienza dei migranti nelle altre strutture e l'operazione va proprio in questo senso. La diocesi annuncia inoltre di essere riuscita ad individuare almeno in fase provvisoria e in attesa che anche le istituzioni preposte diano il loro necessario apporto e si facciano carico anch'esse del problema, circa 130 posti che vanno ad aggiungersi ai 24 già utilizzati presso l'ex scuola di Spazzavento. La picchiava anche in presenza dei due figli di 8 e 12 anni e la apostrofava con frasi offensive anche sui suoi luoghi di origine, il Sud Italia. Per questo, nei confronti di un 41enne residente a Monsummano, in provincia di Pistoia, è stata eseguita la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie. La donna aveva raccontato giorni addietro che i maltrattamenti avevano avuto inizio nel 2018 e che il marito fa uso di stupefacenti. A seguito dei reiterati maltrattamenti, la signora si era rivolta anche a un centro antiviolenza. Un 26enne è stato arrestato ieri sera dopo essere stato visto dai carabinieri mentre spacciava marijuana a due persone a Firenze, nei pressi del Parco delle Cascine, in via del Fosso Macinante. Il pusher Gambiano è stato trovato in possesso di quasi un etto di droga e di 225 euro in contanti. I militari che lo hanno fermato erano impegnati nei controlli per il rispetto delle misure restrittive in vigore per contrastare la diffusione del coronavirus. I due acquirenti identificati sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacenti e multati per essere stati trovati fuori casa senza un valido motivo, in violazione del decreto governativo sull'emergenza Covid-19. La società DS Diagnostica Senese inizierà a fornire al mercato i test sierologici brevettati e marchiati CE-IVD, come annunciato dopo l'accordo raggiunto con l'Istituto Spallanzani a marzo. La capacità produttiva, spiega un comunicato stampa dell'azienda, si attesterà a 3.000 kit alla settimana per un totale di circa 1.200.000 test al mese. Le presenze turistiche nell'area metropolitana di Firenze nel 2020, per effetto dell'emergenza coronavirus, subiranno un calo compreso in una forbice fra il 67,2% e l'83,5% di pernottamenti in meno rispetto ai 15,8 milioni del 2019. Sono le stime contenute in uno studio della Camera di Commercio di Firenze, che prende in esame tre scenari di diversa gravità sulla diffusione del virus e sulla durata delle riduzioni alla mobilità nazionale e internazionale. La Confindustria Toscana Nord chiede chiarezza sulla ripartenza delle attività. Il Governo continua a dire che le imprese riapriranno il 4 maggio, ma che alcune potranno forse ripartenere a partire anche lunedì 27 aprile, cioè al netto del fine settimana dopo domani. Non si sa quali e a quali condizioni. L'atteggiamento del Governo è offensivo nei confronti di imprese e lavoratori. Lo afferma Confindustria Toscana Nord, secondo cui, evidentemente, chi ci governa non comprende cosa significhi portare avanti un'azienda. L'Associazione, dunque, manifesta la massima indignazione, si legge in una nota, per lo stato di incertezza in cui sono lasciate le imprese e sollecita i parlamentari eletti nell'area di Lucca, Pistoia e Prato, anche dei partiti della maggioranza che sostiene il Governo, a dissociarsi formalmente da questa inconcepibile situazione. L'Associazione Ramunion Italia ha donato alla parrocchia di Vicofaro, a Pistoia, di donna Massimo Biancalani, che ospita anche in chiesa ben oltre 200 migranti, 100 litri di liquido disinfettante, oltre a mascherine, tute e occhiali protettivi. Si tratta di un piccolo gesto, ha sottolineato il Presidente dell'Associazione, per dimostrare solidarietà alla parrocchia di Vicofaro in rappresentanza di tante strutture impegnate ogni giorno sul fronte dell'accoglienza. Sono certo che, se staremo uniti, nel naturale e necessario rispetto di tutte le norme igieniche e comportamentali, vinceremo con più facilità il virus. Chiudiamo con le previsioni meteo per domani, in mattinata sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti di tipo basso sulle pianure settentrionali. Nel pomeriggio sereno o velato, con temporanei addensamenti fra le province di Siena e Arezzo. Venti deboli da sud-sud-ovest, con rinforzi sui rilievi. Mari poco mossi, salvo temporaneo aumento del moto ondoso sul settore settentrionale nel pomeriggio. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. È tutto, grazie per averci seguito e buona giornata a tutti. Grazie. 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 Grazie.